Ciao, sono Alessandro Rienti e anche io da alcuni mesi faccio parte di Milano News. Il nostro sogno è di creare una web tv che ci permetta di comunicare con i cittadini e una web tv fatta per i cittadini. È una qualcosa di innovativo che a Milano ancora non esiste. Per fare questo abbiamo bisogno di voi, un piccolo contributo per realizzare il nostro sogno. Grazie.